Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube per un nuovo aggiornamento dei mercati finanziari. Come sempre partiamo dagli indici, ne abbiamo diversi da guardare perché ci sono un sacco di cose interessanti, soprattutto andiamo a vedere un po' di notizie interessanti, perché oggi c'è un sell-off abbastanza pesante sulle criptovalute, in generale un po' su tutte le criptovalute, ma soprattutto ci sono i mercati che sono abbastanza nervosi oggi rispetto a ieri che erano già un pochino più stabili, seppur comunque sono rimasti abbastanza piatti, almeno in mercati americani. Quelli europei tutto sommato erano saliti, seppur di poco, ma comunque erano saliti. Le notizie del giorno, oggi ce le andiamo a guardare, innanzitutto andiamo a vedere il grafico. Qui siamo già sul grafico delle cripto, perché stiamo già guardando quello che sta succedendo sulla dominance del bitcoin, ma ne parliamo dopo. Tra poco apriranno i mercati finanziari, quindi soprattutto apriranno i mercati americani, perché sono le 3, quindi manca ancora una mezz'ora. Vediamo che da un certo punto di vista c'è il Nasdaq che sta un pochino rallentando. Vedete, dopo la rincorsa della scorsa settimana, ha fatto veramente una bellissima cavalcata da 12,911, è arrivato fino a qui a 13,500, ieri ha fatto questa candela di indecisione, che tra l'altro è una formazione abbastanza interessante, perché è andata a fare una candela verde, una d'oggi, e oggi molto probabilmente qui ci sarà una candela rossa, o almeno potremo attenderci una candela rossa, perché tendenzialmente andremo a creare questo tipo di formazione qua, vedete questo tipo di formazione qua, è già creata anche più volte, che è una formazione tendenzialmente bearish, quindi ribassista, quindi oggi probabilmente che vedremo questo engulfing formarsi, e quindi candela verde, doji di indecisione, poi candela rossa, dopodiché il giorno successivo staremo a vedere un po' quello che farà, è una tendenza, diciamo che non c'è mai da attendersi che segua la statistica vera e propria, perché se qui dovesse esserci una candela rossa, la tecnica delle analisi vuole che poi nei giorni successivi qua si vada a scendere, ma visto che ultimamente queste candele, queste formazioni, sia ribassiste che rialziste, sono state sempre smentite dal Nasdaq, e quindi bisognerà capire un po' come si evolverà la giornata di oggi, in primis se chiuderà qui in rosso, andando ad appoggiare probabilmente il Nasdaq qui sui 13,490, o se addirittura proseguirà al ribasso anche nei giorni successivi. Detto questo, perché siamo così incerti? Perché c'è tutto questo rosso che potete vedere qua, un po' sugli indici, perché ci sono varie notizie che influiscono i mercati oggi. Innanzitutto c'è da dire che in Asia preoccupa la nuova ondata di contagi che sta colpendo l'India, che sta colpendo il Giappone, e non solo, ma anche un po' di aumento di contagi anche in Cina, quindi una nuova ondata che faticano a tenere sotto controllo, perché ci sono delle nuove varianti, soprattutto in Giappone è nata questa nuova variante giapponese, che sembra essere particolarmente infettante, e quindi ci sono un po' di timori, soprattutto nei mercati asiatici, oggi ci sono stati dei ribassi abbastanza pesanti, poi li andremo anche a vedere. Le notizie che arrivano da fronte degli Stati Uniti non sono altrettanto negative, ma non sono neanche così buone, perché guardando un po' il piano da 2.300 miliardi, oggi Wall Street Journal ha detto che molto probabilmente di quei 2.300 miliardi, alla fine dell'iter di approvazione, ne arriveranno molti di meno, perché ci saranno molti ostacoli e ci si aspetta che diversi membri del Congresso, del Senato, quindi metteranno i bastoni tra le ruote, alla fine, quindi questi 2.300 miliardi saranno destinati per lo più a cose un pochino più, diciamo, solide, quali strade, ponti, ferrovie, trasporto pesante, ma difficilmente vedranno altri utilizzi, e questo di fatto ovviamente mette un po' un freno all'euforia dei mercati, quindi saremo a vedere. Oggi sarà una giornata abbastanza, diciamo, indecisa sui mercati. Poi che altro? Allora, vediamo di recuperare qualche altra informazione. Vi dicevo, eccoci qua, scusate che mi si era cambiata la schermata. Allora, dicevo, per il momento il Nasdaq segna un meno 0,32%, quindi il leggero negativo, l'SP meno 0,13%, l'SP 500, qui siamo su Future, come vi ricordo. Andiamo a guardare Europa, Futsimib meno 0,44%, DAX meno 0,33%, UK più 0,87% in controtendenza, ovviamente, ma UK non è più Europa. Francia meno 0,04%, e poi andiamo a vedere i mercati asiatici, il CSI 300 meno 0,71%, il China 50 meno 2%, 2,07%, Langsang di Hong Kong meno 1,30%, Giappone meno 0,14%, e l'Eurostox per il momento segna meno 0,15%. Allora, molto interessante, volevo farvi vedere quello che sta succedendo sul China 50. il China 50, che è un indice delle 50 aziende cinesi a maggior capitalizzazione quotate sulle borse di Schengen e di Shanghai. Allora, è molto interessante, perché vedete qui che cosa sta facendo. È salito molto, l'indice era arrivato a toccare i 20.576 punti, poi nelle ultime settimane ha avuto un forte ribasso. forte ribasso, che se lo andiamo a misurare qui dall'ultimo spike low allo spike high, utilizzando Fibonacci, vedete che è andato a toccare esattamente il livello 61.8 di Fibonacci, quindi creando anche un interessante livello di supporto. Livello di supporto che è anche confudato dai volumi, perché se andiamo a guardare i volumi, guardate un po', qua, vedete che c'è questo cluster di volumi molto forte, proprio qui sul livello, diciamo, di ripartenza dell'indice, ma c'è quest'altro cluster di volumi qui, vedete questo cluster di volumi qua, 17.170, proprio qua, proprio sul livello 61.8. Quindi vedete che è interessante, di nuovo, vedere come i grafici ci dicono cosa potrebbe succedere. Quindi che cosa potremmo ipotizzare qua sul China 50? Che potrebbe anche non aver finito di scendere, guardate che adesso si è posizionato sotto la media 21 periodi, e si sta avvicinando pericolosamente alla media 200 periodi. Però, qui potrebbe avere un primo livello di rimbalzo, potrebbe. Dopodiché, se dovesse scendere e andare a toccare qua la media 200 periodi, ci potremmo aspettare ovviamente due cose. La prima è che senta la media e tenda a rimbalzare di nuovo. La seconda è che rompa la media. Nel caso di rottura della media 200 periodi, qua andiamo direttamente a testare il supporto intorno ai 15.000, ma capite bene che si tratta di discese davvero, davvero enormi. Qui siamo valutando 50 aziende, quindi non un paniere così grande, quindi su 50 aziende questo livello di discese sono davvero forti, sono davvero molto molto potenti. E quindi ci sarà un attimino da capire qua cosa potrebbe succedere, ma questo potrebbe essere un interessante livello di ingresso, oppure attendere che si stabilizzi ancora un pochino e vedere un po' che cosa succede. Qua ovviamente se non volete giocare con l'indice che è estremamente volatile e comunque non semplice da gestire, potete utilizzare anche gli ETF, l'FXE, mi sembra che sia l'ATF più consono che rispecchi l'andamento del China 50. E detto questo, andiamo a guardarci un pochino che cosa sta succedendo, per esempio invece sui vari stock. Prima di tutto guardiamo ad esempio cosa sta succedendo sul Forex, vedete che, eccolo qua, il dollaro è andato oggi a toccare sia la media 200 periodi che la media 21 periodi. Vedete l'incrocio che aspettavamo ieri, su cui adesso dovremo capire che cosa succederà, che cosa vorrà fare il dollaro. Dal mio punto di vista io mi aspetto che qui ci possa essere un rimbalzo, quindi una ripartenza di nuovo verso l'alto. Però questo non è detto. Ovviamente di questo incrocio, questo incrocio lo sente anche l'euro dollaro. Vedete che anche l'euro dollaro è nella situazione a specchio praticamente. Qui ci è arrivato già l'altro giorno, oggi ha superato, diciamo in qualche modo, la media 21 periodi, ma guardate che sta toccando la media 200 periodi e in questo momento anche qui ci potrebbe essere, diciamo, un cambio di reazione. Ne bisognerà fare molta molta attenzione. È un caso abbastanza raro che in questo momento, diciamo, sia l'euro dollaro che il dollaro stiano andando verso la stessa direzione, cioè crescendo un pochino verso l'alto. Però ci può stare benissimo. Andiamo a vedere un attimino le materie prime. Perché? Perché oggi, per esempio, ieri abbiamo fatto un po' di considerazioni sul rame, ieri e l'altro ieri, e il rame, vedete che dopo aver rotto il triangolo, ci è tornato indietro e adesso si sta appoggiando di nuovo sulla media 21 periodi e si sta appoggiando su questa trend line che aveva rotto nel giorno precedente. Ora, questa è una situazione abbastanza incerta per il rame. Vedete come continua a oscillare intorno a questi valori. Ha questo livello qua di 4.145, che ormai utilizza come resistenza. Continua a sbatterci contro da diverse settimane e non riesce a superarla. Vediamo un po' cosa farà nei prossimi giorni. I volumi sono ancora piuttosto bassi, anche se qui ha rotto, diciamo, il triangolo, ma comunque con volumi davvero bassi mi aspettavo qualcosina di meglio, e quindi dovremo ancora attendere un pochino per capire che direzione prenderà il rame nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E andiamo a vedere invece cosa sta facendo il gas, perché il gas lo stiamo seguendo da molto vicino, ormai da diverse settimane. Qui abbiamo discusso, abbiamo fatto l'ipotesi di un doppio testa e spalle con ambiziosi target, ma nel frattempo oggi rifà un po' lo giochino che ha fatto ieri, dove a un certo punto qui era tornato indietro, era tornato in verde, per poi scendere nuovamente intorno a meno 2.48, oggi vedete che sta rimbalzando un pochino, siamo a 2.52.6. Cosa succede sul gas? Innanzitutto vi dico che io ho chiuso le mie posizioni short a 2.50, perché mi ero messo uno stop loss di sicurezza, ovviamente, perché comunque erano aperte da un po' di tempo e volevo portarmi a casa un po' di profitto. Adesso aspetterò a riaprire nuove posizioni short, perché? Perché innanzitutto perché vedete che qui il gas sta tornando indietro e perché questa sarà una settimana un po' incerta, diciamo, dal punto di vista del gas, anche se i consumi, la domanda, è comunque bassa, quindi tendenzialmente il prezzo del gas dovrebbe essere ribassista, c'è da dire che il quadro meteo della prossima settimana, quindi quella che vandrà poi dal 13 al 20 di aprile, non è così favorevole, nel senso che è prevista una corrente di aria fredda sugli Stati Uniti, vediamo, ve la faccio vedere proprio qua, eccola qua, vi porto sul sito di natgaswaiter.com e vedete dove siamo in questo momento sulla settimana, dove c'è una richiesta, diciamo, la richiesta di gas, quindi il consumo è abbastanza basso, quindi il prezzo ci sta che sia sceso, così come avevamo detto, così come era ipotizzabile, ma questa corrente di aria fredda che vediamo qui, proprio sulla parte orientale degli Stati Uniti, che si potrebbe manifestare, anzi si manifesterà, perché è già alle porte, tra il periodo del 13 e il 20 aprile, sicuramente porterà a un innalzamento della richiesta, quindi ci potrebbe essere ancora un momento di oscillazione per i prezzi del gas, e quindi dal mio punto di vista preferisco aspettare ancora un pochino prima di rientrare eventualmente in short. Molto, ovviamente, non dipenderà solo dal meteo, ma dipenderà da che cosa? Dipenderà anche dal report. Ok, il report è previsto per la giornata di domani, il report che ci dirà lo stato dello stoccaggio, diciamo, del gas, e quindi anche questo, diciamo, potrà sicuramente influenzare un pochino il prezzo, però per il momento resta a guardare e aspetto che torni in una situazione un pochino più consona, diciamo, per quello che mi riguarda, per quello che riguarda le mie strategie, che comunque non cambiano, per il momento sul lungo termine lasciamo queste due ipotesi molto molto ambiziosi, ancora valide, e staremo a vedere, resta di fatto che adesso dovremo seguirlo qua giornalmente e capire un po' che direzione prenderà. Andiamo a vedere un attimino anche il petrolio, perché guardate qua che insicurezza, che incertezza che c'è sul petrolio, che ormai anche qui da un paio di settimane vedete come è piuttosto volatile, senza direzione, senza un'idea precisa di cosa voglia fare, se non che da quando si è portato sotto la media a 21 periodi, l'unica certezza che abbiamo per il momento è che la sta usando come resistenza e non sembra davvero volerla bucare di nuovo, quindi per il momento diciamo che resta sotto i 60 dollari e sembra volerci rimanere. Tra l'altro, vedete che siamo in una situazione anche abbastanza pericolosa, perché siamo arrivati anche a toccare di nuovo la media a 50 periodi e ci siamo andati sotto il petrolio, ci è andato sotto, non noi, perché io non ho posizioni aperte sul petrolio. Poi, torniamo sull'oro ovviamente, perché l'oro, come già detto più volte dal mio punto di vista, resta fondamentalmente ribassista e infatti, guardate qui, ieri, il rialzo che c'è stato ieri che è andato a toccare gli 1,745, come avevo detto, era alla fine ancora acerbo, perché vedete che siamo ancora dentro questo canale ribassista, siamo ancora sotto la media a 50 periodi e siamo ancora in un segnale di estrema debolezza, tra l'altro con una diminuzione di volumi abbastanza interessante, quindi anche qui siamo ancora un pochino in stasi, diciamo, siamo in attesa. Quello che c'è da notare da un punto di vista puramente tecnico è che l'oro si è portato sopra la media a 21 periodi e questo è interessante perché oggi la sta usando come supporto e quindi questo potrebbe essere un piccolo indizio in più per un eventuale trend positivo, ma, ripeto, siamo ancora dentro questo canale ribassista, quindi abbiamo ancora tanta tanta strada da fare. Velocemente parliamo di cripto perché oggi panico ho visto su diversi gruppi perché cripto sono andate in sell-off oggi, in sell-off in alcune anche abbastanza pesante, andiamo a vedere bitcoin oggi meno 2,69%, binance meno 4 a 384 binance meno 4 a 384 dollari, ha toccato i 400 dollari, ricordatevelo, questo non è un sell-off, queste sono prese di posizione, ok? Dopo questa cavalcata qui sfido chiunque a non portarsi a casa un margine. Tron meno 12%, ovviamente, va bene, qui c'era stato tanto, 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 tanta, tanta speculazione qua, quindi figuriamoci se non c'era da attenderci una discesa. E poi Ada, Cardano ovviamente 1,19 meno 4% e poi abbiamo Ethereum, torna Ethereum sotto il 2.000 dollari a meno 5,74 ma stiamo parlando comunque di una cavalcata enorme partita da 1.500 e arrivata oltre 2.200 e poi ovviamente è scesa qui come tutte le cripto. XLM quindi andiamo su Stellar meno 11%, Litecoin meno 5%, anche la stessa PNT token IP Network è meno 10%, qui non si sta salvando nessuno, diciamo oggi le discese sono all'ordine del giorno ma ripeto dal mio punto di vista non c'è nulla di cui spaventarsi è tutto abbastanza fisiologico dopo le grandi cavalcate che ci sono state nelle scorse settimane soprattutto poi quando andiamo a guardarci quella dominanza di Bitcoin che è scesa tantissimo negli ultimi mesi oggi guardate che ha un leggero recupero infatti la dominance segna è un più 1,54% e infatti se andiamo a guardarci Bitcoin alla fine con meno 2,55% è la cripto che soffre di meno come vi ho detto già ieri l'alt season o l'alt coin season come la volete chiamare è un po' è un normale side effect del fatto che Bitcoin cresca e cresca in maniera molto forte per cui ci sta diciamo che soprattutto i piccoli investitori ma non solo vadano a investire su cripto dove ci sia più liquidità dove ci sia possibilità di fare acquisti con liquidità diversa chiaramente perché ci sono valori diversi e quindi è chiaro che dopo tutto quel pump delle scorse settimane è normale che ci si vada a prendere dei profitti quindi non ci vedo assolutamente nulla di strano tra l'altro c'è da dire che su Bitcoin potrebbe esserci ancora qualche movimento interessante perché leggevo prima un'analisi molto 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 ben fatta tra l'altro di Phil Phil che è un analista di Bitcoin molto molto in gamba che diceva che potrebbe esserci un nuovo trend rialzista per Bitcoin ma bisognerà fare attenzione alla ICO anzi alla ICO di Coinbase perché Coinbase si sta per quotare sui mercati tradizionali quindi questo potrebbe portare qualche scossone diciamo al Bitcoin stesso perché ovviamente Coinbase è uno dei maggiori exchange sul mercato mondiale uno di quelli che muove più quantità di Bitcoin al mondo quindi non è detto che ci sia un'ulteriore discesa per Bitcoin potrebbe esserci una discesa e poi una nuova ripresa questo potrebbe essere davvero interessante quindi diciamo c'è un breakout che potrebbe essere davvero dietro l'angolo ma queste sono ovviamente ipotesi poi ognuno ovviamente può dire la sua sulle criptovalute perché ognuno può fare le considerazioni che vuole staremo a vedere comunque come come si muoverà il tutto diciamo che l'ipotesi di Phil Philb è che Bitcoin possa prima di ricominciare a correre possa avere un breakout verso i 50.000 effettivamente se andiamo a guardarci un pochino qua a Bitcoin ci andiamo a misurare un po' di volumi ma sui volumi in realtà io li misuro ma non hanno alcun senso non hanno molto senso i volumi qua su Bitcoin però se andiamo a guardarceli un pochino diciamo che un ritorno verso i 50.000 ci potrebbe star tutto qui a 50.000 c'è una struttura molto molto interessante vedete dove c'è qui siamo arrivati qui una due tre poi è partito poi c'è rimbalzato qua e poi è ripartito per cui un ritorno verso i 50.000 ci starebbe tutto ma non solo qui c'è un fortissimo accumulo dove sono entrate tante balene qui intorno a 47 a 48.000 quindi non è detto che qualcuno voglia spingere ancora il prezzo un pochino più in giù per poi rientrare pesantemente dal mio punto di vista un ritorno verso i 50.000 non mi dispiacerebbe affatto perché significherebbe un'ottima occasione per rimpinguare eventualmente delle posizioni per diciamo vedere un nuovo strappo in qualche modo quindi staremo a vedere nel frattempo io su bitcoin ho le mie posizioni aperte le lascio lì e vediamo un po' cosa succede che altro andiamo a guardarci velocemente quindi visto che stanno aprendo i mercati andiamo a guardarci un pochino cosa sta succedendo sui mercati allora eccoci qua perfetto allora eccoli qua in diretta allora md meno 0.25 amazon più 0.29 apple meno 0.36 vedete che stanno aprendo poi in modo incerto qui siamo ovviamente sul nasdaq microsoft 247 intel 6550 questo ml va bene non c'entra niente aston martin e poi abbiamo pinterest meno 1.10 disney più 0.12 c'è tanta tanta indecisione visto che poi lo stiamo seguendo ormai da un po' di giorni andiamo a guardarci che cosa sta succedendo su tesla perché anche tesla ieri è stato estremamente indeciso eccola qua tesla e guardate qua che candela di indecisione che ha fatto tesla alla fine è chiuso sulla parità oggi apre leggermente il ribasso 6.84 qui tesla ve l'ho già detto e lo ripeto continua a soffrire la quota dei 700 dollari quindi bisognerà fare molta molta attenzione a tesla ebbene per il momento non ho molto altro da dire diciamo i piccoli suggerimenti che potevo darvi ve li ho dati oggi non c'era molto da andare ad analizzare di interessante a parte diciamo il gas e l'indice cinese e parlare un po' di questa discesa dell'ecritto o presunta tale quindi come sempre spero che i miei video vi piacciono se vi piacciono cliccate scrivete al canale cliccate sul campanellino rimanere sempre aggiornati come sempre quindi mettete commenti like quello che volete aiutatemi a far crescere il canale ci vediamo ai prossimi aggiornamenti stay tuned e finger crossed ciao a tutti